Il Conservatorio non ha necessità di acquisire tanti allievi perché ne ha già un numero altissimo e purtroppo questo grande immobile, questo grande locale che sembra così immenso comincia a essere stretto per la corporazione del Conservatorio che ha bisogno di classi singole in una classe, in una stanza, suona un solo ragazzo, non è che si possa fare una lezione a 20, 30, 15, 10 ma ogni ragazza ha bisogno dei suoi tempi e quindi di una classe, quindi va fatta una ulteriore sollecitazione verso il comune di Fermo che ha fatto morire senza reagire la Università dei Beni Culturali e che ha questi locali liberi qua che vorrebbe destinare questi locali alla biblioteca per la conservazione delle riviste, cioè una specie di archivio, mentre il Conservatorio li dovrebbe destinare e ne ha bisogno a classi musicali, a classi di allievi e questi che sono contigui che basterebbe, cioè non ci occorre neanche aprire quindi anche una sollecitazione al comune di Fermo.